A volte può capitare che ci venga dato un file AutoCAD con allegato un file ctb per la stampa. Per capirci, se io entro nel pannello di stampa, nella parte in alto a destra c'è una voce relativa alla tabella stili di stampa. Qui dentro ci sono alcuni file ctb di default, quindi che crea AutoCAD in maniera automatica. Entrando in uno di questi file, notiamo che abbiamo qui l'elenco di tutti i colori che è possibile creare all'interno di AutoCAD e possiamo assegnare ad ognuno di questi colori un certo spessore di linea, un certo stile di linea, quindi dare ad AutoCAD determinate caratteristiche. Alcuni studi utilizzano stampare tramite questi stili di stampa ctb. Quindi magari ci viene inviato un file dvg con l'allegato file ctb per andare a stamparlo. Ma come facciamo ad aggiungere in questo elenco un nuovo file ctb? Per farlo uno dei modi più semplici è quello di andare nella cartella delle opzioni di AutoCAD, andare in stampa e pubblicazione e andare a cliccare su questo tasto aggiungi o configura plotter. Questo tasto ci manda in una cartella presente nel nostro computer legata in AppData, Roaming, Autodesk, Autodesk 2004, R24, ITA, Plotter. Per non seguire tutto questo percorso, il modo più semplice è quello di premere il tasto che vi ho fatto vedere prima. In quel pannello, entrando nella cartella plot style, ci ritroviamo i ctb che abbiamo visto prima, quindi l'ACAD e tutti gli altri. Quindi ci basterà semplicemente copiare e incollare il ctb che ci hanno fornito all'interno di questo spazio e quando torneremo nuovamente in AutoCAD e andremo di nuovo nel pannello di stampa, ci troveremo all'interno di questo elenco il ctb per stampare il file che ci hanno fornito. Io personalmente non utilizzo il ctb, io preferisco dare gli spessori delle linee, gli stili delle linee, direttamente nel pannello di layer. Tuttavia ci sono degli studi che sono comunque ancora rimasti legati a questo metodo di stampa, che era un metodo di stampa che veniva utilizzato moltissimo nelle prime versioni di AutoCAD, quando non era ancora possibile impostare spessore di linee e caratteristiche di linee legate direttamente ai layer del disegno, quindi si ricorreva a quei ctb. Oggi invece è comodissimo creare dei layer e andarli a legare, quindi ad esempio i muri, diamo uno spessore con la penna 030 e automaticamente tutti i muri acquisiranno quello spessore. Io lo trovo più comodo, però tuttavia ci sono persone che utilizzano ancora il ctb di stampa e quindi abbiamo visto come andarli a caricare. Nel caso in cui li volessimo personalizzare noi, andremo a scegliere una serie di colori che vogliamo andare ad utilizzare e li andremo a collegare, quindi andremo qui e andremo ad impostare quello spessore per quel colore. Quindi all'interno del disegno useremo quel colore e automaticamente in fase di stampa, andando a collegare il nostro file a quel ctb, lui automaticamente verrà all'interno di questa tabella che associerà i colori e gli spessori e quindi farà una stampa con le linee, diciamo con lo spessore che noi vogliamo.